Benvenuti alla partita di Quidditch, qui è il vostro commentatore Lee Jordan. Il campo di Quidditch ha tre porte per parte. I cacciatori lanciano la frutta e cercano di farla entrare in uno degli anelli per segnare un gol. Stai attento ai voliti, sono delle palle incantate in grado di disarcionarti dal tuo manico di scopo. I due battitori di ogni squadra cercano di respingere. Nella partita di oggi contro Sepp Verde, Gripondoro si affida nuovamente al suo formidabile cercatore Harry Potter. Ricordati che quando compare, il boccino lascia dietro di sede i cerchi della velocità, che aiuteranno il cercatore a volare più rapidamente. Ecco arrivare Potter! Un luccichio dorato, è il boccino? Potter ha visto il boccino? Potter ha distrazione velocissimo! Il bocino schiava forti! Harry Potter si avvicina al vaccino! Ci ha minccato forte! Non ho mai visto nessuno volare così! Il Void espiora Potter! Potter è un soffio al boccino! Arriva il cercatore di surf verde! Spinta avvicinante! Poter è un soffio al boccino! Evita un void è arrivato a tutta velocità! Il Void espiora Potter! Potter si porta in vantaggio! Potter spreccia velocissimo! Incredibile! Oh! Ci è mancato poco! Si sta avvicinando! Evita un void è arrivato a tutta velocità! Potter non si dà per vinto! Potter ha preso il boccino! öh versus l'anfilt猿! Vok! Cristo dentro! Ok! No! burpe